Presidente, oggi un giro in Calabria, nella provincia di Reggio, nella Locrida con Matteo Salvini, è travolgente, anche chi non vota Lega lo accoglie e vuole chiacchierare con lui. La cosa che lascia non più perplessi ma colpiti tante persone è il fatto che Matteo Salvini sia costantemente in questa terra di Calabria perché non passa un mese, un mese e mezzo massimo che lui non torni ad occuparsi della Calabria. Io l'ho avuto a fianco in questi mesi difficilissimi, complicatissimi, mesi che chiaramente ci hanno visti come Lega e hanno visto me con la responsabilità istituzionale che mi è arrivata a dover lottare con un nemico strano, invisibile e pericolosissimo ma anche con una sorta di pregiudizio che in realtà invece la Lega stessa in quanto Lega è riuscita a superare. Sono contento del risultato che stiamo portando a casa giorno dopo giorno e sono anche molto contento di questa meravigliosa presenza delle persone che stanno dimostrando un grande affetto, una grande stima e un grande rispetto nei confronti di un grande politico che è Matteo Salvini. Un anno di Covid, un anno di governo regionale, le elezioni però incoronato in tandem con Occhiuto, quindi già candidato alla vicepresidenza. Insomma, incoronato forse no però questo riconoscimento per questo anno difficilissimo che stiamo attraversando insieme, stiamo gestendo insieme con i calabresi con un rapporto così fraterno, così domestico. E' lo stile della Lega? Grazie. Grazie a tutti.